Domenica 1 ottobre all'interno della festa del Balloon di Torino alle ore 12 si è svolta l'asta benefica di elettrodomestici regenerati, asta la lavatrice sempre. Regeneration, il negozio di elettrodomestici regenerati che si trova in via Mameli 14, proprio in pieno Balloon, ha collaborato con il Sermig per una iniziativa di solidarietà per le donne che vivono nell'edificio che ospita anche il negozio di Regeneration. E' una cosa nuova, non si è mai fatto un'asta di lavatrici e di elettrodomestici, quindi per noi è stata una bellissima esperienza per lanciare il nostro messaggio nei confronti del luogo in cui siamo, cioè al Balloon, vicini al Sermig e soprattutto per aiutare le persone accolte dal condominio solidale. E' abitato da famiglie e donne sole o con figli che attraversano un periodo di difficoltà e che dopo essere state accolte dal Sermig all'Arsenale della Pace sperimentano in uno spazio accogliente e protetto come questo una vita autonoma. Tante persone aiutate dal Sermig hanno bisogno d'aiuto e noi possiamo darlo e lo facciamo con grande cuore e molto volentieri. Abbiamo assunto sei persone, abbiamo rigenerato già 500 elettrodomestici e si può fare del bene anche in maniera divertente. L'asta è stata gestita da artisti di strada, dal Circo Pacco a Peppino Marabita e il musicista Luca Rossi, i quali hanno ottenuto banco, battuto i pezzi e intrattenuto il pubblico con sketch e giocoleria. Abbiamo piazzato quattro lavatrici, un'asciugatrice e due o tre lavastoviglie. Quando un'azienda ha dei bei progetti e riesce a possibilità economica di investire e di fare lo fa sulle persone, lo fa sul territorio e lo fa con un'attenzione all'ambiente e alle persone che in azienda lavorano ma anche a quelli che sono i clienti di Regeneration e le persone del condominio solidale.